Non capisco perché io dovrei essere responsabile nei confronti della giunta e avere un atteggiamento responsabile. Ieri è stato detto che Biscardini parla come Presidente della Commissione Urbanistica, Biscardini parla come componente della maggioranza. No, Biscardini parla come semplice consigliere, uno dei 49 che sta qui, che vuole difendere le prerogative di questo consiglio che viene calpestato dall'atteggiamento della giunta. E io comincio a domandarmi perché mai io devo avere in quanto Presidente della Commissione Urbanistica e in quanto consigliere di maggioranza un senso della responsabilità, quando la giunta è assente e responsabilità nemmeno al dialogo e al confronto dimostra rispetto agli elementi che abbiamo presentato.